Il bioscaricabarile, a cui si è visto in questa circostanza, la dice lunga in termini proprio di responsabilità di chi deve amministrare in questo caso il territorio. E dall'altra parte le risorse di disposizione. Per chi l'avrà notato, si è visto prima il servizio della Pavia col ponte della Becca, sotto veniva fuori un nome con in fianco Presidente Area Vasta di Pavia. E quella lì sono le province che hanno cambiato nome. Cioè, attenzione anche a questa cosa fantasmagorica che è come Equitalia che diventa un'altra roba, o il Ministero dell'Agricoltura diventa il Ministero dell'Agricoltura. Cioè, se poi non ci sono le risorse, quello ti diceva molto semplice, oggi si chiama Presidente dell'Area Vasta di Pavia, ieri era il Presidente della provincia di Pavia. Ma se nel passaggio da uno all'altro le risorse non c'erano prima, non ci sono neanche oggi. No, ma sono state tagliate. E sono state tagliate per il più, addirittura zerate come nel caso delle manutenzioni in questo caso. E uno deve porsi la domanda, ma un ponte che come usciva lì 1850, ma dove vuoi che vada? Ma quanto vuoi che duri? Cioè, lui l'unica possibilità che ha, lei dice chiudere. Mettere il cartello e far passare, ma stiamo parlando. Cioè, questa è l'unica cosa che può fare per non assumersi la responsabilità della disgrazia domani. Certo, ma lo dico con grande preoccupazione. Stiamo parlando di un territorio dove la circolazione stradale, la circolazione anche di mezzi pesanti, è qualcosa di fondamentale. Qui non stiamo parlando di un territorio dove passa una macchina ogni tanto e si sono dimenticati di quella strada. Stiamo parlando di un territorio ad altissima presenza industriale, con una circolazione di autoveicoli che bontanidio... E quindi ci stiamo dicendo che siamo molto fortunati, perché fino ad oggi raccontiamo solo quell'episodio che non a caso vediamo di vedere. La mancanza di responsabilità, la mancanza di risorse producono questi effetti. Drammatico, eh?